Siamo con Mari della zona Pontina, dopo quell'1-2 del secondo tempo avete mollato decisamente la presa? Mollato non proprio, abbiamo comunque sempre provato a dire la nostra anche se il risultato è nettamente ampio per loro, noi comunque come ti ho detto ci abbiamo provato fino alla fine andando sempre verso la porta avversaria. Rimane comunque intatta l'obiettivo salvezza comunque di restare lì a metà classifica tranquillamente. Sì, comunque noi giochiamo partita per partita, quindi obiettivi sì ma sempre pensando un po' alla volta, passo passo. Come Organi oggi sei entrato in partita decisamente bene con una tua doppietta. Sì, oggi comunque sia il mister ci ha motivato tutta la settimana, c'era grande spirito comunque sia, volevamo fare bene prima del riposo natalizio e comunque sia siamo entrati in campo messi bene e siamo stati sempre in partita anche su due pari. Continua quindi la marcia verso la leadership? Sì, ci crediamo comunque sia, le capacità ce le abbiamo tutte, è un buon gruppo, in settimana si lavora bene quindi penso che faremo parlare ancora di noi.